chest rig mlt 16 della nerga in cordura 500 dm leggera morbida e resistente passante passante laterale destro e laterale sinistro due caricatori alla cappa di capienza oppure tre caricatori dell m4 o altresì due caricatori g36 oppure si può utilizzare semplicemente come fondi ai laterali troviamo delle taschine possono agevolmente contenere un fumogeno le taschine sono chiudibili a velcro le laterali e le anteriori con i bottoni automatici se i caricatori sono più bassi oppure a velcro se i caricatori sono più alti cerniere lampo ykk di buonissima qualità all'interno abbiamo un'unica tasca molto capiente sul retro troviamo gli spallacci regolabili portati a incrocio sulla schiena e in una cinghia da vita sempre regolabile il fondo si svelcra viene fuori questa copertura questo cover che fa sì che il chest venga trasformato è chiuso per tutta la sua grandezza diventa compatto e ridotto e facilmente trasportabile sono Grazie.